come fate entrare non entra un personaggio qualsiasi entra un tipico ragazzino che puoi incontrare a napoli per strada e quando lo incontri di solito cambi marciapiede perché ti incutrano sempre un po di paura iniziale è un fastidio di un pezzo di quella vita che lui spia dalla finestra gli è entrato in casa però capisce contemporaneamente che il suo intervento è ineluttabile perché ne va della vita del ragazzino e quindi a poca volta ricostruisce il quadro e capisce che una cosa mostruosa quello che sta per avvenire cioè la sua famiglia è costretta quasi a eliminarlo fisicamente e questa è una cosa che non può succedere non deve succedere è anche un personaggio così inaridito dalla vita così distante a un certo punto sente il dovere di intervenire però attraverso questo meccanismo di di obbligo morale a un certo punto è coinvolto sempre più interiormente capisce che quella quell'obbligo poi diventa una necessità anche per lui un bisogno anche suo qualcuno lo sta aiutando a nascondersi chiunque sia questo tizio dura solo pochi giorni maestro conoscendo poi anche lui si apre con me diciamo che è quello che mi piace proprio la sua persona che comunque capisco che cerca di aiutarmi perché io comunque la fiducia non ce l'ho al cento per cento diciamo che il mio personaggio è un puzzle con dei pezzi messi al posto sbagliato e lui mi aiuta a rimetterli al proprio posto beh quella forza l'immagine più violenta del film perché proprio l'impossibilità di far convivere le cose diverse anche se è il luogo dove l'unico luogo al mondo dove poteva avvenire questa storia napoli è l'unico posto dove un personaggio di quel tipo poteva vivere a fianco a una famiglia camorristica la questione diventa complicata per lui perché è in pericolo diciamo per questioni criminali no perché lui lo deve trovare questo bambino in realtà il suo vero pericolo è il fatto che lui subisce ancora una seduzione perché perché si è innamorato della musica perché si è innamorato di quella possibilità quindi in realtà il suo pericolo interno sceglie di bruciare quella parte di sé sceglie di andare totalmente da una parte è chiamato ad una scelta e la fa uccidendo questa 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 zona questo questa parte bella possibile che aveva incontrato napoli da sempre la si racconta da sempre ha dato al cinema italiano delle grandi storie delle grandi possibilità narrative dei grandi autori quindi mi piace molto che sono tre film che parlano e che vengono sono ambientati in questa città ma che ne svelano tutti i mondi possibili altri ancora diciamo sono più preoccupato quando di quella città si dà solo una chiave di lettura